Quindi stasera siete a Rock and Roll, giusto? Sì, 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 esatto. Ho sentito il vostro ultimo brano. Bel testo, devo dire, mi è piaciuto molto. Tu poi sei molto bravo. È che il resto mi è sembrato tanto amatoriale. Giulio, vieni qui. Oggi suoni con la tua band. Ho sentito il tuo ultimo pezzo, infatti. Tutto bene? Tutto bene? Eh? Non l'ho capito! Allora, sto leggendo le riviste in sala. Le riviste in sala? Sì, le riviste in sala. Non hai toccato l'agenda rossa, bello. Mmm, quale agenda rossa? Ciao! Ciao! Grazie a tutti.